In Veneto, in Emilia Romagna, in Lombardia abbiamo gli imprenditori collassati sull'orlo del fallimento che non sanno nemmeno se riapriranno o meno le loro attività che stanno pagando le tasse, ok? Stanno pagando le tasse e abbiamo il ministro Provenzano che in una intervista al Corriere della Sera ha la precisa domanda del giornalista, che vi voglio leggere per non sbagliare perché quando l'ho letta io non ci credevo, il giornalista chiede, molti al sud lavorano in nero e oggi stanno perdendo il loro reddito, come si aiutano? Risposta del ministro della Repubblica Provenzano, ministro della Repubblica. Inutile nasconderlo, l'economia meridionale ha una vasta zona grigia di sommerso che ha riflessi anche sull'economia legale, però. E le misure che il governo ha messo in campo fin qui hanno privilegiato l'emerso, pensa un po' te, com'era inevitabile. Ma se la crisi si prolunga dobbiamo prendere misure universalistiche per raggiungere anche le fasce sociali più vulnerabili, due punti, le famiglie numerose, oltre a chi lavora in nero. Cioè un ministro della Repubblica sta dicendo che noi dovremmo mettere risorse per aiutare gli evasori fiscali, per aiutare chi non paga le tasse, per aiutare chi oggi non sta contribuendo al sistema socio-sanitario che sta salvando vite, che sta salvando vite, che sta curando le persone in terapia intensiva. Con le tasse noi paghiamo le strutture per salvare le persone in terapia intensiva. E un ministro della Repubblica dice che dobbiamo trovare risorse anche per quelli che lavorano in nero al sud. No, no, ma venite a dirmi che non bisogna fare polemiche poi. Voglio che mi veniate a dire in faccia che non devo fare polemiche. Io mi vergogno di queste cose.